Oltre mille persone hanno sfilato in silenzio lungo le vie di Corropoli per manifestare dolore e incredulità di fronte allo sconto di pena da 30 a 17 anni deciso dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila per l'efferrato assassino di Monia di Domenico, originaria del Borgo Vibratiano. Mamma Doretta e papà Aldino in prima fila, seguiti da amici, sindaci, associazioni femminili, commissioni per le pari opportunità, semplici cittadini. Tutti hanno sfilato chiedendo giustizia per Monia. Monia era una psicologa, aveva 45 anni e lui, l'assassino Giovanni Iacone, cuoco originario di Firenze, era il suo inquilino e le doveva ancora 780 euro di affitto. Era l'11 febbraio 2017 quando Monia va da Iacone a Francavilla a mare per pretendere quello che le spetta. Scoppia una lite tra i due e lui la colpisce 16 volte in faccia con un sasso. Lei cade e va a sbattere su un tavolino di vetro che si frantuma. Lui raccoglie una scheggia e le taglia la gola. Poi la trascina in un sottoscala con un lenzuolo e la lascia lì, agonizzante. Lei morirà dopo mezz'ora, poco prima che i carabinieri avvertiti dagli inquilini arrestino l'omicida. La sentenza di primo grado condanna Iacone a 30 anni con l'aggravante della crudeltà, elemento che sembra essere stato dimenticato dalla sentenza d'appello che dimezza appunto la pena. Mamma Doretta è forte, non piange quando deposita un mazzo di fiori sulla panchina rossa dedicata alla sua Monia nella bella piazza di Corropoli. Ma non è così per papà Aldino che non trattiene le lacrime per l'intera durata del corteo. Era la mia unica figlia, dice sommessamente, e non sono riuscito nemmeno a riconoscerla per come l'avevano ridotta. È stata mia moglie a capire che era lei. Il corteo si è concluso con un grande abbraccio ai familiari e con una promessa che nel cuore di tutti risuonava forte. Mai più, nessuna Monia.